L'abbiamo perso dopo il ponte, ma la rotonda ha tre opzioni. Waterloo Road, Stanford Street e Waterloo Bridge. È irrintracciabile da venti minuti. L'ho trovato. Bank Station. La borsa è sparita. E anche i soldi. Tempo dall'avvistamento? È lì adesso. È Billy. Lo stanno seguendo. Vigli di andare alla fabbrica di cemento e inviate una squadra speciale, adesso!